Perchè ne sei venuto a cercare? Per datere a mano. La Befana ti porterà sul conto della fondazione un paio di milioni di euro. In cambio mi servirà leggi sulle periferie. Vediamo qua che succede. O si diventa come Las Vegas. Tu devi far solo la tua parte, il resto ce ne penso io. Tra qualche giorno il tuo partito e il governo salta tutto per aria. Chiederò ai miei referenti di partito. I tuoi referenti non esistono più. Possiamo comprare chiunque. Tu mi avevi detto che me coprivi, che mi proteggiavi, tu non hai fatto un cazzo! Ti sto chiedendo quello che mi aspetta adesso! E non il mio comune è il mio! Sei stato tu? E' stata Roma.